Lucane Audio! Lucane Audio! Non si sente l'audio? Ok, ci penso io. Sto cazzo di microfono! Oh oh oh! Caramello! E fa queste cose qua. Per partecipare al format di Vieroclips che viene fatto ogni martedì live su Twitch alle ore 17 dovete semplicemente mandare le vostre clip all'interno del Reddit e della scuderia trovate il link in descrizione di questo video. È Shifty Jack, signori. Shifty Jack. Shifty Jack da clan Lida con l'uomo 1973. Questi non ascoltano niente. Sfa 545 per lui. Da 30 alla pezzare. Lucane Audio! Lucane! Audio! Mattere, ruota, ruota da là. Audio! Lascialo giocare! Ok. Bravo! Bravo. Sei bravissimo. Bravo, Shifty. Bravo! Buono, 10 bombe per lui. Può arrestare? Piastri? Un altro, un altro. Buono! Minchia, bravo. Buono, Piastri? Bravissimo. Non c'hanno nero. Bene? Ci piace? Maschera? Ok. Bravissimo. Ci abbiamo quasi un rest? A vero, fatelo fare, fatelo fare. Bravo, bravo maestro. Lascialo fare, maestro. Ha capito il maestro. Ha capito che c'è del talento in questo ragazzo, in me che ha paro. L'ha capito? Vai, Shifty. C'è uno sopra, attenzione, Shifty. Shifty Jack si gira. Rischio. Tanta roba. Bravissima. Tanto c'è la maschera. Era buona, eh? Però vorrei vedere la fine. Non era male. Bella clip. Cari Lucone. Bravo. Eh, non carri mai, vero lì, eh? Pezzo di merda. Vieni a carriare, vero lì ogni tanto. Bella clip. Bravo. Sei e mezzo pulito. Prossima clip. La mira con le armi è sempre quella di Papirino, però... Drop, drop, gentle drop, gentle drop. Gentle drop, gentle drop. Questo ho capito chi è, però non mi ricordo il nickname. Kirio, Kirio, a Kirio. Ok, me lo ricordo, Kirio. Caccato uno. Mi ha fatto subito. Anche al primo colpo. Tira la need. Ok. È pronto. Scende. Tira la smoke. Si piace. Strax, strax, strax. Co-co-co-co-co sto dicendo. Doxox. Passante a destra. Buona questa pic, però. Viene challengeato anche dall'alto. Recupero rapido, lo entra in funzione. Si può placcare. Si mette una placca. Se ne mette due, però ha 13 colpi solo nel caricatore. Forse se ne accorge... Bravo. Io ho un segno al palco, c'era un bengale. Ragazzi, Kirio è quell'uomo che dice... Vabbè, io... Io non lo so. Ho il rischio nella vene. Ho il rischio nelle vene. Ho bisogno di quella dose di... Di coca... No, aspetta. Di... Quella roba lì e praticamente... Niente. Riesce appunto a tirare fuori il quick dal cappello, ecco. Dio, ma comunque questo cecchino quando sparo da console mi sfondo le orecchie. Ok, ne fa uno. Chi è questo qua? Cog. Cog. Ne fa due. Buono con questo cecchino. Otto bombe per lui. Tre bombe. Con questo cecchino. Scende. Non era male. MP7. Esce. Questa è la mia più bella del gioco, ragazzi. Peccato che faccia schifo. Ricarica. Lo voglio rivedere, scusatemi. Come cazzo è entrato il colpo? Wow! Bello! Che cazzo di colpo è entrato? Vorrei rivederla, Fabio. Vorrei rivederla, cazzo. Hey! Non è male. Non è male, va bene, va bene. Dai, dai. Dammi di più. Dammi di più. Dammi di più. Dammi di più. Abbiamo otto bombe. Abbiamo otto bombe. Dai, su. Dai, cazzo. Esprimiti. Esprimiti di più. Buono. Puscialo. A sinistra. Non è una sinistra. Ce n'è uno. È morto. Sì. Bello. Ok. Prossimo. Bello. Pulito. Bravo. No. Questo meno. Prossimo. Va. Sì. Può. Fare. Carino. Bravo. Non è male. Buona collection. Niente di cratante. Da console. Bravo. Il cecchino. Qualcosa di carico. Qualcosa di molto figo. Qualcosa un po' meno. Bravo. Comunque è un bravo player. Questo ragazzo. Gli diamo un seino pulito. Mirko noise. Spawna un Mirko noise. Registrato con il Mac questa clip. Non si sente l'audio. Ok. Ci penso io. Buona. Buona la prima clip. Pusha. Buona questa doppia. Qua c'è le ciali. Attenzione. Deciso. Deciso il Mirkone. Lo pusha. Buona. Ancora la seconda kill. Buona anche questa. C'è il terzo però da uccidere. Si deve placare. Niente da fare per lui. Prossima. Oh no sta snappata. Oh il Mirkone. Ti fa il 360 per dirti sì. Ho fatto proprio una bella snappata. Di ricarica in faccia al nemico. Non lo teme. Lo guarda. Lo scrutassa di poter fare questo jumpshot. E di prenderlo in testa. Madre de Dios è il dio Mirkone Noise con questa doppia incredibile colcicchino. Belline. Seino. 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 Passiamo a Biffle. Ovvero. Ningino. Ningino ragazzi. Cinque kill per lui. Challenge a questo ragazzo. Ne fa uno. Si può riflaccare adesso. Inizia. Eccoci. Questo ragazzi. Questo ragazzi è il momento in cui scopriamo. Che un ragazzo che stava. Comunque migliorando nel tempo da Xbox. Stava giocando bene. Ha cominciato. A fare il TikTok. Ed ecco qua. Che inizia a spammare i movimenti a caso. Oh oh oh. Caramello. E fa queste cose qua. Non ti sbaglio. Questa. Questa è la classica cosa che succede. A quelli che si gasano. Quando iniziano ad usare il movimento a caso. Allora vediamo se è così o meno. Finiamo. Diffaniamo la clip. Vediamo. Buono. Non è male. Va bene. Va bene. Piastre. Non proprio il challenge più bello abbiamo visto. Non è male. Ce n'è altre? Buono. Chill. Chill. Sei ino. Vai bene. Tranquillo. 5,5. Dai. 5,5. Buono. Buono Ninjino. Ormai Ninjino shifty check è il duo. Si placca. Non si... Si stima. Si placca. Questa ci sta eh. Non era male eh. Sta place. Ricarica. Si setta. Pusha. Queste sono le lobby di Frafri eh. Questa è la VPN di Frafri ragazzi. Frafri ma che bot lobby trovi? Frafri. Che lobby sono? Vabbè questa è una bella Frafri lobby eh. Questa è Cracked oh. Chi è sto qua? Non so dove fanno. Ce l'abbiamo. Eh sì è sopra te. No la partner plus raga mi manca l'ultimo mese. Mi manca il prossimo mese. 300 bonati il prossimo mese. 300 punti bonati il prossimo mese. L'ultimo mese mi manca. Ho fatto i due di fila. Ho fatto uno. Ho fatto un altro. Gioca al claw questo? Mamma mia. Un altro, un altro. Un altro. Bello Cracked eh. Chi è sto qua? Nicozza. Che rank è ragazzi secondo voi? 13 kill 141 SR. Che rank è? È bello Cracked eh questo. Sense? Sì maltina mi sembra. Diamante? No mi sa di più. Mi sa che è un cremino questo. Un bel cremino questo. Cremino o iria addirittura? Buono. È Cracked eh. Di due o di tredici? Sono un cremino. Due stun. Oh è bello Cracked eh. Guarda l'ha. Oh. Oh bello Cracked. Gioca in claw? Bravo zio. Bravo bravo GG. Comunque... Un sette pieno secondo me eh. Un sette pieno eh. Questo è un bizzino ragazzi. Bizzino è bello Cracked eh. Bello Cracked mio cucciolino. Questo è uno dei miei figli. Clip in sette venti. Non si vede un cazzo. Però vabbè. Ne lascia uno one shot. Risponde al push. Rompe la gamba al secondo. Lo distrugge. Ops. Si sistema. Ricarica. Si risetta un attimo. Dieci bombe per lui. Si può riplaccare. Inizia a sistemarsi. Bizzino ma te giochi in claw? Non mi ricordo. Non mi ricordo mai come giochete. Ho il pc del novecento. Povero cuccio. Cento fps. Nice. Buona. Si placca. Deve essere morto però. E' bella la poving claw comunque. Non c'entra a fa. Guarda il mio cucciolo come spam. Guarda come spam. Che centering c'ha? Nice. La seconda. 12 bombe per lui. Questo va. Poverino. Vabbè. GG. Bizzino ragazzi. Bello crackhead. Bello crackhead. Lo voglio vedere in ridescente a breve. Ricordo se ti ho mai visto in game. Ti ho visto anche oggi sul discord. Ne fa uno. Ne fa due. Ne fa due. E' già fatto tutte e quattro. E' bella sta traccata eh. Non male. Buona. Quanto è venuta l'ansietta eh. Fatti due. Minchia il BP che è arma di mer. Buona. Qui avevi fatto un bello switch. Non era male eh. Non era male. Mettiti l'opzione quella che ti cambia l'arma da solo se finisci i colpi. Che comoda in queste situazioni. Bene. 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 Buona. Buona. Non era male. Carina. Cinque ore e mezzo pulito. Luxor. Luxor me lo ricordo. È mega paro. Sì anche lui. Che usa il cecchino lui. Puscia. Si. 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 Si stima. Buona. Buona. Sta succedendo qua. Terra. Nice. Che ha detto? Cos'era questo verso? Ne fa uno. Crack. Crackato un altro. Va male. Terra uno. Ma chi sono i compagni di squadra? Dei pazzi. Si stima. Vola. Puscia. Che sono? Otto e mezzo. Crackato un altro. Nice. Un shot. Nice. Una. Sono qua dentro. Sono tutti matti questi. Crackato. Buono. Nice. Bello. Lui se non va su sto cazzo di boccione non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Trackato. Atterra. 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 Bello. Bello. Next. Atterra anche quello. Bello. 13 bombe per lui. 10 di ping giocami. Che bello. Sono a terra. Sopra di terra. Bella sta traccata. Sembra un paddaro. Eh. L'ha detto lui per me. L'ha detto lui per me. Bella sta traccata. Oh. Bella. Nice. Bello. Non è vero. Non è vero. Sono morto. Ok. Bella. 360. Non so se è dentro. Nice. Dov'è il drone? Ok. Vabbiamo in 360 ora? Qui vabbiamo in 360. Non so perché. Me la fillo il 360. Fillo il 360 per l'ex. Fillo. C'è l'altro a sinistra. A sinistra è nato Luxor. Perché non l'ho visto? Piastre? Cosa si è sentito un chilometro prima? Tuo. Su due. C'hai sopra anche. Buona. Buona. Belline. Belline. Luxorone picchia. Luxorone picchia. Faze smiro. Luxorone picchia ragazzi. Bella MK paro. Anche lui. Bello bello. 6-7 pulito. 6-7 pulito. Grazie a tutti.